Salve a tutti, sono Luigi in Artelusio e benvenuti a questo nuovo video. Oggi non me la sento di dire buondì, buongiorno, perché non penso che sia una bella giornata. Ormai sappiamo tutti quello che sta succedendo in Ucraina. Sappiamo che un po' questa data, questo 24 febbraio 2022, probabilmente i nostri figli e i nostri nipoti se lo troveranno a studiare sui libri di storia. Io ero un po' in dubbio se fare o meno un video, anche perché sinceramente non sapevo di cosa avrei potuto parlare. Poi però ho fatto un po' una piccola riflessione, ho pensato che il libro di cui volevo parlare oggi, bene o male, ci sta bene anche con la giornata di oggi, chi più chi meno, in un certo qual modo. Oggi non vi parlo di un romanzo, vi parlo di un saggio, ed è questo, La Grazia Pagana, di Ginette Parise. Ginette Parise che è una dottoressa, una psicoterapeuta, una professoressa che insegna psicologia e mitologia alla Pacific Graduate Institute di Santa Barbara, quindi lei è canadese di origini francesi, trapiantata in America, di tutte e di più. Bene, di cosa parla questo saggio? Allora, in questo saggio principalmente Ginette Parise sceglie di mostrare un po', sceglie di parlare di tre archetipi. Ho già avuto modo di parlare del concetto degli archetipi mitologici nel videoanalisi che ho fatto del film, dell'ultimo film della Disney, Encanto, che se volete recuperare vi lascio linkato qui nel pallino magico. Bene, qui però l'autrice si sofferma principalmente su tre archetipi, principalmente che sono femminili, però partiamo dal presupposto che l'archetipo non ha genere, un archetipo femminile può andare bene anche in un uomo e un archetipo maschile può andare bene anche per una donna, indifferentemente. Gli archetipi servono un poco, come le divinità della mitologia, servono un poco a mettere un po' in ordine le nostre idee su una base dell'inquadramento del nostro io. Ho scelto, e io mi sono approcciato a questa lettura principalmente perché sono molto interessato all'archetipo di Estia, che è un concetto che sto molto usando ultimamente per un romanzo che vorrei scrivere, che non so se pubblicherò, forse non lo pubblicherò mai, forse lo scriverò solo per me stesso, chi lo sa solo la vita ce lo dirà, va bene. Sto volando su queste cose che non c'entrano niente con la recensione. Allora, quindi mi sono avvicinato a questa lettura principalmente perché volevo un approfondimento sull'archetipo di Estia e devo dire che sono rimasto piacevolmente coinvolto dall'intera opera in sé per sé, proprio dallo stile e dall'approccio che l'autrice dà a questo argomento, a questa tematica, che magari non è per tutti. Se siete interessati più alla questione psicologica, ma anche alla questione sociologica, o anche al concetto del ruolo della donna in senso più ampio, o in senso più stretto o più che altro se vogliamo allargare un po' ad ampio raggio alla condizione proprio dell'essere umano in sé per sé. L'autrice parla degli archetipi femminili usando proprio il concetto del femminino sacro per parlare di una riscoperta della nuova femminilità, sia esso sotto il punto di vista femminista che semplicemente del ruolo della donna nel mondo, ma è un'analisi che noi possiamo ritrovare, e la stessa autrice ce lo ricorda, anche in molti aspetti universali, quindi coinvolgendo anche il mondo maschile. Il soggetto principale dell'opera, quella a cui è dedicato lo spazio maggiore, è la figura dell'archetipo di Artemide. Artemide che è la dea vergine della caccia, la dea della luna, la dea delle foreste, la dea della caccia, la dea proprio della libertà in senso ampio, a differenza di sua sorella Atena, che è sempre una figura vergine di guerriera e altro, ma è rinchiusa in una sfera non maschile, non patriarcale, quanto più che altro civile, sociale, quindi incastrata o comunque adattata all'interno della vita di tutti i giorni, Artemide fugge anche da questo inquadramento. Artemide è fatta per la natura, per la libertà, per la rivoluzione. Oggi potremmo dire che la dea Artemide è quel tipo di donna magari che si esprime in maniera in controtendenza, che non sottostà a quelli che sono un po' gli aspetti estetici che la società richiede da una donna, ovvero quello di essere strabella, strafiga, femminile, eccetera. È una figura femminile che magari va anche contro questi dati di fatto, questi preconcetti del mondo femminile, o che invece semplicemente li prende ma li fa solo per se stessa. E in più c'è un grande e ampio collegamento al mondo della natura, al nuovo concetto dell'ambientalismo, ben incarnato da Greta Thunberg, che possiamo intenderla proprio come un vero e proprio archetipo di Artemide. C'è poi l'archetipo di Estia, il capitolo dedicato ad Estia. Estia che è una figura molto particolare. Dovete sapere, vi faccio un po' questa piccola lezioncina, che gli archetipi femminili possono dividersi in gli archetipi femminili vergini e gli archetipi femminili delle madri. Tra le vergini ci sono ovviamente Artemi, l'archetipo di Artemide, già nominato, e l'archetipo di Atena, mentre invece tra le dè madri, o tra le dè non vergini, troviamo gli archetipi di Hera, che un po' rappresenta la donna inquadrata nel concetto matrimoniale, e l'archetipo di Demetra, che è la dea atta al nutrimento, quindi possiamo vederla come un'immagine della figura femminile che è addetta al nutrimento delle nuove generazioni. Estia si pone come un ponte tra queste due categorie, perché Estia è una dea vergine, però al tempo stesso ha tutti gli aspetti di una dea della madre. Estia è la dea del focolare, la dea proprio del centro della casa, è la dea più venerata nell'ambito della religione greca. A lei venivano posti i primi sacrifici della giornata, veniva mantenuto acceso il suo focolare, perché non solo era una sua rappresentazione, ma era anche il senso stesso del calore, dell'unità della famiglia. Per certi versi, come dice anche Jeanette Paris, al giorno d'oggi Estia potrebbe essere la zia nubile, non sposata, che però è molto materna con i suoi nipoti e con i suoi pronipoti, oppure anche la nonna vedova che tiene sempre le caramelle rossana nella borsetta per i nipotini e che fa un po' da collante per tutti i suoi figli. È un po' questo concetto qua. Estia rappresenta quell'unità della famiglia, che può essere incarnata magari da una persona, non per forza una donna, anche una figura maschile può rappresentare un archetipo di Estia. Invece di una madre possiamo trovare un padre, invece di una nonna possiamo trovare un nonno, invece di una zia, uno zio, eccetera, eccetera. Una figura magari che può sembrare solitaria in un certo qual modo, ma che è un po' il cuore pulsante della famiglia, quella figura che riesce un poco a comprendere, a prestare un orecchio a chi ne ha bisogno, che riesce a distendere magari quei tantissimi momenti di dissapori che abbiamo in famiglia. E poi, infine, concludiamo con un capitolo più breve su Mnemosine, che non è proprio un archetipo quanto un concetto. Mnemosine è la dea della memoria, e la memoria, sebbene in questo volume il concetto della memoria sembra un po' fuori tono, in realtà è molto importante, perché la memoria è parte essenziale della nostra vita. Ora arriveremo a parlare su questo mio canale ampiamente del concetto della memoria, proprio quest'anno, quando inizierò ad affrontare in più video, in più video-lezioni, sulla figura di Marcel Proust, che è proprio lo scrittore della memoria per Antonomasia, e della sua opera più grande, che è Alla ricerca del tempo perduto. Quindi avremo molto tempo per parlare, avremo molte occasioni per poter parlare del concetto della memoria e del ricordo. Mnemosine, quindi, è un po' il concetto stesso della memoria, che tutti quanti dobbiamo tenere bene a mente, perché senza memoria vuol dire che non c'è passato, e senza passato non ci sono né presente né futuro. Io qui aprirei una grande disputa su quanto stanno facendo, ad esempio, in America, da alcuni anni a questa parte, con la cancel culture, ovvero quel cancellare un passato, perché è stato da loro rinnegato, perché c'erano molti concetti con i quali ovviamente oggi non siamo d'accordo, giustamente nessuno è d'accordo con la schiavitù dei tempi passati, però la memoria è una cosa che va coltivata anche con le cose negative, anzi soprattutto con gli aspetti più negativi. Qui in Italia, ad esempio, se qualcuno non avesse fatto questa identica riflessione, oggi non avremo né il giorno della memoria per ricordarci di quella immane tragedia che è stata la Shoah, né il giorno del ricordo, per non dimenticare quella grande tragedia delle foibe. Ecco, vedete, noi dobbiamo tenere a mente anche gli aspetti più negativi della nostra storia, perché proprio tenendo a mente questi concetti, questi aspetti, dovremmo educare le nuove generazioni a non commettere mai più queste scelte. non dobbiamo pensare che la mnemosine, il ricordo, avveleni il nostro presente, il nostro passato, spingendoci a ripetere gli errori del passato. No, mnemosine ci insegna a non ripetere quegli stessi errori tenendoli vivi a mente, anche facendoci vergognare di questo. Ma è una cosa che purtroppo sembra che la storia non impara mai, e l'abbiamo visto proprio con quanto è successo alle 4 di mattina, ora italiana di questo giorno, quando Putin ha sferrato il primo attacco sui primi bombardamenti nei territori dell'Ucraina, aprendo quella che è sicuramente una vera e propria guerra. Non sappiamo se sarà una terza guerra mondiale, come molti già stanno dicendo. Possiamo solo augurarci che non sia così, possiamo augurarci che alla fine, dopo questa prima fiammata, prevalga il buonsenso e si scelga la via della diplomazia. Però noi purtroppo possiamo soltanto dire il nostro no a quanto sta avvenendo. Possiamo fare appello a mnemosine per ricordare i tempi passati dove già abbiamo avuto il mondo dilaniato dalle guerre e ogni volta abbiamo sempre ripetuto che simili cose non capitino di nuovo. possiamo ritrovare quel calore familiare che possa portare pace in noi, così come fa la dea Estia, che mantenendo vivo il fuoco all'interno delle nostre famiglie o all'interno delle nostre comunità o del nostro mondo intero, non per niente ragazzi, il centro della Terra è un enorme nucleo in fiamme, è come se avessimo proprio Estia che è il cuore pulsante del nostro pianeta, quindi di tutti noi, a mantenere vivo quel senso di unità, quel senso di calore che dovrebbe tenerci uniti tutti quanti, al di là del fatto che magari parliamo lingue differenti, abbiamo fedi e confessioni religiose differenti, abbiamo magari usi e costumi differenti, però di base, non siamo diversi. Alla fine è cosa che vogliamo, vorremmo tutti quanti solo la pace, vorremmo ritrovare un poco quel senso di pace e di libertà che da parecchi anni ci manca, vorremmo far uscire di nuovo l'artemide che abbiamo ognuno di noi dentro, farla uscire fuori, correre nelle foreste in una pazza corsa selvaggia, sentirci liberi finalmente, come non ci capita più da molti anni a questa parte, prima per la pandemia, adesso per la guerra. Come vedete anche per questo ho capito che avevo pure la possibilità per intavolare un discorso parlandovi di questo libro, parlandovi di un argomento che magari è più inerente alla psicologia, però va a toccare anche temi molto importanti, come nell'ambito della sociologia e ricollegarci anche a quanto purtroppo sta avvenendo in questo mondo, in questo momento, nel mondo. Io non so sinceramente cosa dire, anche perché non è molto il mio ambito di competenze parlare di attualità, posso parlarne soltanto come ne possono parlare tanti altri, come ne potrete sicuramente parlare molto meglio voi che magari state guardando questo video, anzi se avete qualche riflessione a riguardo per tutto quello che sta avvenendo, se ne sentite il bisogno, sentitevi liberi di esprimervi qua giù nei commenti, ditemi magari ciò che vi sentite, ciò che magari sperate per il futuro e per quella parte di utenti che mi seguono, che vedo che non sono italiani, ho visto che alcuni vengono appunto dall'est Europa, io l'unica cosa che posso fare è starvi vicino col cuore, io penso continuamente a quanto sta succedendo, non riesco a smettere proprio di pensarci da stamattina e piacerebbe poter fare molto di più, io l'unica cosa, mi sento, lo so, mi sento sempre inutile perché vorrei avere la capacità di poter fare molte più cose, di potermi rendere più utile, sicuramente se mi capiterà l'occasione la vorrò cogliere al volo, vorrò coglierla, sicuramente se ne avrò la possibilità, per il momento io do tutta la mia vicinanza a chi in questo momento sta affrontando in maniera più difficile questo momento perché magari si trova in quelle zone o peggio ancora, ha dei parenti lì, quelle zone bombardate o chi ha semplicemente paura di quanto sta avvenendo, io vi sono vicinissimo e speriamo che alla fine prevalga il buonsenso in tutti, in chi si ritrova a gestire queste azioni e speriamo solo che alla fine, come diceva Edoardo De Filippo, passi la nottata e ritorni sereno alla fine, sentiamo tutti quanti il bisogno della pace, della tranquillità, del focolare di Estia e della libertà di Artemide, ne sentiamo tutti quanti il bisogno, io vi abbraccio di cuore e spero come tutti quanti che tutto quanto passi e che si possa ritornare a respirare tranquillamente, finalmente in pace. Dal vostro Lusi è tutto e vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.